Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video news, un altro, sì, a quanto pare a sti stronzi piace lasciarci 606 notizie nell'arco di un giorno per poi lasciarci a secco per un intero mese. In ogni caso, come avrete detto dal titolo, signori miei, Zygarde confirmed, Zygarde sarà presente su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ho aspettato a portarvi questa notizia perché avrei voluto vedere un video ufficiale e se R.B. me l'ha dato. In questo video che voi vedrete sicuramente a rallentatore con qualche filtro perché vorrò cercare di evadere un po' il copyright, vediamo nel primo filmato questo Zygarde a forma 10%, il cagnolino inserito nel contesto di Sole e Luna a combattere un Metagross potrebbe utilizzare una sua mossa molto interessante grazie alla quale sembra quasi smolecolarsi come se diventassero delle piccole cellule di Zygarde attaccando il nemico, mentre invece nel secondo video, che è un attimino più lungo se non sbaglio, noteremo come questo Zygarde possieda un'abilità grazie alla quale messa in una situazione difficoltosa diventerà forma 100%. Inoltre in questo video qua possiamo notare qualcosa di molto marginale come la host di battaglia che se non sbaglio è un remix della host di quinta generazione, sperando che sia effettivamente quella, la host che ci sarà nel gioco però a giudicare dal rumore fatto dai versi dei Pokémon, dal rumore delle mosse, direi che possiamo essere abbastanza sicuri che sia la host originale e niente, possiamo anche capire che Zygarde non avrà uno strano meccanismo di evoluzione ma cambia forma a seconda delle necessità dato che a quanto pare in una situazione di difficoltà tira fuori il suo potenziale mi ricordo tipo Freezer di Dragon Ball che sta per crepare ogni volta si evolve, vabbè che lui lo decide però in sostanza ragazzi, questo Zygarde non saranno evoluzioni di Zygarde ma sarà un'abilità che gli permetterà di cambiare la sua forma detto ciò io non mi dilungo oltre perché se volete sapere cosa ne penso e robe varie ci sarà una live sul canale di Rocket il giorno delle 3 quindi rimanete sintonizzati anche sul suo canale che trovate in descrizione perché in uno di questi giorni uscirà questa live nella quale parleremo di tutte queste news questo video l'ho portato principalmente perché avendo una playlist di news mi sembrava una news troppo importante per non dedicarle un piccolo video l'ho fatto e quindi niente spero che vi sia piaciuto, ditemi cosa ne pensate nei commenti voi di questo Zygarde lasciate un bel mi piace, commentate e iscrivetevi, passate dai social che trovate in descrizione e anche dal canale del Rocket e noi ci becchiamo in un prossimo video